Ciao. Ciao. Posso? Certo. Pesi? Mi dai il tuo portafogli. Pensavo che non ne avremmo più parlato. Dammelo. Va bene. Vuoi buttarlo via? Voglio buttare via l'involucro. Senti, se riguarda il fatto... Pesi. Riguarda come mi hai portato la valigia giù dall'autobus ieri. Riguarda il modo in cui... Quando andiamo al cinema tu vai a comprare i popcorn. Mi metti sempre un tovagliolino sulle gambe per evitare che mi pulisca sui jeans. E riguarda il modo in cui quando abbiamo giocato a minigolf tu... Hai sempre tirato per primo per indicarmi il percorso. Ma questo è... Tu mi hai insegnato a guidare. E l'anno scorso al ballo... Sapevi che il braccialetto che avevo era di mia madre. Mi hai baciato una prima volta. E la seconda volta... Hai contato fino a dieci prima di rifarlo... Nel caso in cui io avessi avuto intenzione di fermarti. Mi hai comparato un muro. Beh, ecco, certo. Siamo stati... Su una parca per tre mesi. E tu hai capito senza che io parlassi... Che non ero pronta. Non mi chiedi perché. Adesso lo sono. Pesi. Conterò fino a dieci. E poi... Comincerò a baciarti. Se non vuoi che continui... Devi soltanto fermarti. Alla prossima... Chi è di più? Anna, Io mi... Io mi... Io mi... Io mi... Io mi... Io ti... Io... I will love you, love you